eccoci qua eccoci qua ragazzi eccoci qua oggi parliamo di un qualcosa di nuovo parliamo di un nome che non è solitamente tra i classici nomi che girano un nome particolare un nome conosciuto ma un nome particolare fatevi salutare ho l'ermanito sono il gia 7 quello che tiene le racchette le lavagnette le rocchette non le manette perché non ho le mitragliette ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta youtube italia e benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato parliamo di voci di mercato e parliamo di tache fusa cubo e come sempre ragazzi con la sua scheda di transfer mark qui davanti ovviamente prima di parlarne nel dettaglio bisogna fare un sorso d'acqua perché il fabbisogno quotidiano d'acqua bisogna soddisfarlo ragazzi bisogna comunque soddisfare la mia sete direte voi genio ma questa è natia cosa fai tu sei quello che tiene le rocchette perché c'è la natia e non la rocchetta ragazzi la rocchetta è oggettivamente più buona secondo me secondo me è oggettivo un fatto oggettivo è un po più densa la natia però ci sta ci sta comunque un acqua un acqua buona un acqua buona potrebbe essere un'idea per un video recensisco le varie acque bottiglie d'acqua le varie marche di acqua io il sorso me lo faccio e poi andiamo a parlare di tache fusa cubo allora abbiamo detto un nome nuovo ne ha parlato nico schiera nico schiera è un esperto di mercato tra l'altro un saluto a nico che è tratam e che io lo apprezzo tantissimo perché lavora giorno e notte ragazzi non si ferma mai lui la notte non dorme per fare questo non si dà pace veramente un lavoratore estremamente chiedo scusa assiduo ha dato questa notizia il napoli sta monitorando tache fusa cubo è una una zona del campo in cui il napoli vuole operare ragazzi parliamo di un ala destra è uno dei calciatori che è il napoli che pervaglio diciamo del del listone del napoli e dunque potrebbe essere lui il prossimo colpo il prossimo colpo del napoli allora andiamo per gradi innanzitutto come dicevo prima non è un calciatore nuovo sui radar degli scout perché un nome che circola da almeno tre quattro anni forse due tre più corretto no però io direi addirittura tre quattro anni perché comunque nel 2019 lui passo addirittura a real madrid che poi l'ha mandato in presto a mallorca via real ghetafe il primo gol se non erro l'ha segnato proprio con il mallorca si mi pare che proprio con il mallorca lo fece il primo gol tra l'altro lui le giovanili era fatte nel barcellona dove ci fu poi lo scandalo dei calciatori non maggiorenni intesserati eccetera eccetera se ne dovette tornare in giappone giapponese e adesso è alla real società del ragazzi sta facendo veramente una grandissima stagione ed è proprio il classico giocatore che secondo me farebbe impazzire napoli il napoli la città lo stadio eccetera eccetera perché proprio il giocatore da parati fini è il classico calciatore che piace a chi ha un gusto fine per il calcio è uno molto molto tecnico è alto 1,73 però nel senso che non è bassissimo però diciamo è un'altezza normale per per un'ala è sicuramente più basso di quara che quara se non era addirittura 1,83 1,81 1,83 adesso non ricordo precisamente però lui è estremamente compatto soprattutto nel suo modo di correre nel suo modo di giocare è un mancino ragazzi un mancino che è un mancino bellissimo è proprio estremamente fine ha un modo di impattare il pallone bellissimo che su certe cose mi ricorda Anthony il modo in cui riesce a frustare quel pallone ad impattarlo con l'interno con l'interno pieno proprio veramente forte 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 dicevo ragazzi una alla testa attualmente alla real società vi leggo anche i suoi numeri in liga quest'anno 31 partite 8 gol e 6 assist che secondo me Lozano e Puritano insieme quest'anno non hanno apparato in Europa League 7 partite e 2 assist e diciamo sono degli ottimi 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 numeri che poi in una squadra che gioca bene gioca bene a calcio perché la Real Sociedad ragazzi l'abbiamo visto anche sulla nostra sulla nostra vella è una squadra che sa giocare a calcio in Spagna comunque è raro trovare squadre che non giochino però in una squadra che è completamente votata dall'attacco e che ha sempre il pallino del gioco uno come Takefusa Kubo può essere fondamentale tra l'altro è uno che ti garantisce una bella dose di regia e il Napoli secondo me sulla destra ha bisogno di questo perché la maggior parte dei registi del Napoli è concentrato sulla parte sinistra abbiamo Zielinski che spesso lo fa abbiamo Mario Rui che spesso lo fa abbiamo Kvara che molto spesso si prende questa responsabilità nonostante non sia la sua caratteristica preferita perché lui è più un calciatore d'assalto uno che va che ti picchia che ti fa il gol che ti salta l'uomo non si concentra sulla parte della regia uno come Takefusa Kubo sulla destra si ragazzi dirò praticamente sempre sia nome che cognome perché mi gasa dire Takefusa Kubo devo essere onesto uno come lui è fondamentale uno come lui sulla destra ci vuole proprio soprattutto se davanti di uno si meno ma chiunque ti tenga davanti è uno che quella frustata tra l'altro al Matteo Politano ce l'ha ce l'ha da fermo ce l'ha in movimento ce l'ha in qualsiasi modo quindi quella frustata a rientrare per lanciare l'attaccante è nelle sue caratteristiche è nelle sue corde è uno che salta l'uomo è uno che vede molto bene la porta è uno che vede molto bene i compagni di squadra è uno che sa fare ragazzi veramente tutto e poi parliamo di un classe 2001 4 giugno 2001 dunque a 21 anni ha la stessa età di Quara Scheria un po' più giovane perché se non erano Quara è di è di febbraio o sbaglio mi pare di ricordare che Quara sia di febbraio adesso non ricordo precisamente però ragazzi parliamo di un calciatore forte 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 che può tranquillamente prendersi il posto di trovare non so se l'ho detto prima Transfermarkt lo valuta 15 milioni di euro sicuramente non lo strappi non lo strappi alla Real Sociedad per 15 milioni di euro anche perché è stato pagato al ha pagato al Real il cioè la Real Sociedad ha pagato al Real 6 milioni e mezzo di euro una cosa del genere quindi secondo me devi fare qualcosina in più magari con 20-25 bonus compresi una roba del genere ci riesce ad arrivare ad un calciatore del genere poi ha uno stipendio sicuramente alla portata adesso non l'ho controllato ma sono sicuro che abbia uno stipendio alla portata Takekusakubo è anche un nazionale è anche un nazionale giapponese ha fatto più presenze ha fatto mi pare una ventina di presenze con la nazionale giapponese non so se è anche addirittura negli under comunque ragazzi calciatore estremamente interessante che sarebbe sicuramente un upgrade e che però secondo me implicherebbe una rivoluzione totale sulla destra perché se prendi Kubo vuol dire che devi cedere Politano per quello che è il gioco delle caratteristiche perché Kubo non è uno che ti va tanto in profondità quanto uno che ti entra dentro al campo e quindi devi andare a sostituire Politano con Kubo e devi prendere un altro al posto di Lozzano perché ragazzi il futuro di Lozzano secondo me è ormai scritto dove deve essere ceduto se non lo cedi lo devi rinnovare penso che sia folle tenere un calciatore che è costato così tanto scadenza di contratto fino all'anno prossimo a perdere addirittura pagandogli addirittura un altro anno di 4 milioni e mezzo più bonus sicuramente con un calciatore che non ti dà garanzie né dal punto di vista fisico né dal punto di vista tecnico né dal punto di vista numerico e quindi c'è tanto su cui lavorare su quella fascia per me Kubo è un grandissimo grandissimo giocatore per palati fini mi raccomando ragazzi fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù troverete anche il G7 Shorts, il mio canale pubblico teleclippo anticonici volete dirti nel canale, tu preferiti, noi ci vediamo la prossima volta sempre e comunque, tutta l'Aida, Forza Napoli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti